Il dato, già noto dal pomeriggio di ieri, quando è stata comunicata la positività di un paziente residente a Corato, ora è ufficiale. Dopo sei giorni consecutivi a zero, torna il contagio da coronavirus in Puglia. Tre sono i nuovi casi di positività emersi dal bollettino epidemiologico del 3 luglio. Il dato odierno porta a 4.533 il totale dei pazienti pugliesi, di cui 3.879 guariti, 109 attualmente positivi e 545 deceduti. Tre sono i nuovi guariti del 3 luglio. Nessun paziente risulta invece deceduto. 21 è il numero totale dei pazienti ricoverati, 88 quello dei domiciliati. Nei tre casi odierni, due sono provenienti dalla provincia di Bari ed uno dal Brindisino. Nel Barese, zona dove si è interrotta una striscia di 11 giorni consecutivi senza contagi, il totale dei casi sale a 1.493, dato più alto della regione dal punto di vista numerico. Dopo 12 giorni senza casi, torna invece il contagio nel Brindisino, provincia nella quale il totale dei pazienti sale a 660. Tutto invariato nelle altre zone. Il Foggiano, da 10 giorni senza contagio, resta la provincia più colpita in rapporto alla popolazione con i suoi 1.169 pazienti totali, mentre il Tarantino, da 8 giorni senza nuovi casi, resta, con i suoi 281 positivi, la zona meno colpita dal coronavirus in Puglia. Fermo a 521 da una settimana, il dato complessivo della provincia di Lecce. 38 sono i giorni consecutivi senza contagi per la provincia di Barletta-Andreatrani, il cui dato complessivo resta sempre di 380. I 2.036 test odierni portano a 184.749 il totale dei tamponi pugliesi.